La vita si vive nel bene e nel male, che uno non deve mai prendere qualcosa solo quando è positivo, no. Di utras, come dire, penso assolutamente di essere il dodicesimo mondo. Alberto Salarese, in arte, perché di arte si tratta, parigino, settore naturalmente curva nord. A me di Bacarrese non mi interessaria, io vado a vedere la squadra. I calciatori baresi vengono da Parivecchi, dai tempi di Vincenzo Orlando, della Serie A, di Cassano. Io ho vissuto tre promozioni, due di fila e l'ultima con Salvemini. Sì, c'è già sforzato l'entusiasmo. Pazziettile, l'Italia ci guarda! Tre quarti di campo in posizione centrale, Barreto, Barreto in lotta a Comusacci, lo supera, Barreto, filo, respinto dal portiere, grande conclusione di Barreto, il dodicesimo venuto. Grazie a tutti! Grazie.